Allora, benvenuto a Teresa Bisceglia, candidato a consigliere con Cantone Sindaco al Comune di Pratella, con la lista Insieme per Rinascere. Parleremo con lei nel corso del brevissimo incontro del programma elettorale e del futuro del piccolo comune. Perché si è candidata innanzitutto? Chi gliel'ha fatto fare? La domanda potrebbe sembrare semplice, ma non lo è, è totalmente il contrario. In realtà, quello che mi ha spinto a candidarmi è stato essenzialmente la voglia di far rinascere un paese che per troppo tempo è stato messo da parte o comunque non tenuto in degna considerazione. Siamo un bel paese, siamo un paese con le giuste potenzialità per poter essere il fiore all'occhiello dell'alto casertano. Abbiamo delle splendide frazioni, rocchiavecchie e mastrati che insieme a Pratella rendono il lavoro agevole ma sicuramente duro. Siccome non mi spaventano le sfide, ho scelto di fare questa esperienza politica. Da chi è costituita la sua lista? Cioè in termini di professionalità? La mia lista è costituita intanto da gente semplice, da gente che in termini di professionalità può dare tanto a questo paese. Siamo secondo me un giusto mix di persone che hanno la giusta esperienza per portare avanti l'azione amministrativa, ma anche volti nuovi e con una grande voglia di futuro e che credo sia il giusto mix appunto per affrontare quello che il futuro ci possa riservare grazie ovviamente alla fiducia dei cittadini che ce lo permetteranno, lo speriamo. Prima di candidarsi, conoscendo bene il suo comune, si sarà fatta l'idea di qualcosa, di qualche bisogno in particolare, che deve avere la priorità. Quale per esempio? Il nostro paese ha bisogno di tante cose. Quello che mi sento di dire è che noi non siamo una lista delle grandi promesse. Noi guardiamo, viviamo nel quotidiano il nostro paese. Siamo una lista che insieme al candidato sindaco Luigi Cantone è composta da membri che sono nati, vivono il paese. Io in primis ho vissuto il mio paese dalla nascita, ho fatto parte di varie associazioni, quindi mi sento di dire, non ho la presunzione di poter dire di risolvere tutti i problemi che il paese ha, ma sicuramente ho la presunzione di poter dire che conosco quelli che sono i bisogni dei miei cittadini. Il suo primo provvedimento qualora venisse eletta? Ma la rivalutazione dell'area verde. Noi abbiamo percorsi turistici dimenticati, abbiamo Montecavuto, non a caso faccio un piccolo scenno anche al logo, il logo che rappresenta la nostra lista, rappresenta un po' gli emblemi di tutti e tre i centri. Pratilla abbiamo ovviamente le fontane, a Roccavecchia abbiamo Montecavuto e a Mastrade abbiamo un scelto dottor Romberto, ma dietro a tutti e tre questi monumenti nasce un sole, un sole rinascente, un sole che ci permetterà di gestire al meglio le esigenze del paese e la rivalutazione dei percorsi turistici che collegano il comune alle varie frazioni, secondo me, rientra nei primissimi provvedimenti da attuare in caso di vittoria. Servizio navetta, trovo nel programma, perché? Servizio navetta perché la problematica più importante probabilmente nel nostro paese è proprio questa, un mal collegamento tra le frazioni e il paese, le persone anziane che dalle frazioni non possono arrivare al paese perché magari non hanno chi ovviamente le accompagna, ma sia per quelli che sono i fabbisogni primari delle persone, sia per quella che è proprio la partecipazione alla vita aggregativa del paese. Due progetti che avranno sicuramente la priorità rispetto agli altri, quali potrebbero essere? Due progetti che avranno sicuramente la priorità, la rivalutazione appunto delle aree verdi, quindi dei percorsi naturalistici e turistici, che ci siamo detti prima, la rivalutazione delle nostre, diciamo, del nostro bene primario, l'acqua. La domanda che facciamo un po' a tutti, perché dovrebbero votare la sua lista? Dovrebbero votare la nostra lista perché siamo gente semplici. Io quando mi viene fatta questa domanda utilizzo una frase del nostro candidato sindaco, dice noi siamo una lista che laddove dovesse avere la fiducia e quindi avete il mandato per i prossimi cinque anni deve indossare le scarpette da ginnastica. Su questa cosa noi ridiamo, ridiamo spesso, però secondo me da qui bisogna partire. Scarpette da ginnastica per correre e per andare a risolvere quelli che sono poi i problemi dei cittadini, ma non solo, per fare da mediatori tra il rapporto con le istituzioni che sono esterne al nostro paese, noi e i cittadini. Solo così possiamo risolvere gran parte dei problemi e cercare di far rinascere questo paese che ormai è un po' assopito e addormentato. L'ultima domanda, pochi secondi per lanciare un messaggio ai suoi concittadini. Che cosa vuole dire? Ma io ai miei concittadini dico che in questa insomma legislatura abbiamo la possibilità di cambiare, di provare a cambiare insieme. Io quando parlo al plurale parlo così perché io non sono solo una candidata alla carica di consigliere comunale, ma io mi sento una cittadina in primis, io sono Teresa Biscea, cioè la Teresa che con loro ha partecipato alle tante attività che il paese ha messo in cantiere e mi sento di dire che solo insieme, solo grazie alla loro fiducia e grazie al nostro impegno possiamo far rinascere Pratella. Noi ce la metteremo tutta, senza grandi promesse, perché gli errori sono dietro l'angolo, non abbiamo la presunzione di dire che siamo perfetti, ma abbiamo la presunzione di dire che abbiamo ovviamente tutti i candidati, me in primis, la volontà di risolvere le problematiche del paese e la volontà di farlo rifiorire e di farlo splendere come merita. Bene, il nostro incontro politico per le elezioni comunali dell'8 giugno termina qui, grazie al nostro ospite. Alla prossima, sigla! Grazie!